Sì, mi chiedo dove andremo a finire di questo passo, boi ad un buon letter. Cosa vuole? Non è più come una volta. Nemmeno quei giornali scandalistici. Compra direttamente i quotidiani. Costano meno e hanno le stesse notizie. Come sapete il vostro sindaco si preoccupa sempre per i suoi amati concittadini. Non siamo mica porta a porta che quando la situazione butta male e ci si alza si va via. Hai visto quanti corvi ci sono in paese? Eh sì, una volta c'erano passerotti i signoli, oggi soltanto gazzi e corvi. Il corvo stesso è Rocco che annuncia gracchiando l'ingresso fatale di Duncan sotto i miei bastioni. Venite, spiriti che governate i pensieri di morte. Strappatemi il sesso e riempitemi tutta dalla testa ai piedi della più feroce crudeltà. Ferma, ferma, mi fai paura, sorbole. Mi hai fatto venire i brividi quando vorrei farti strappare il sesso. Ma cosa ti hai preso? Ma è di morte. Ah, quella malattia di quel tedesco là. Com'è che si chiama? Sì, insomma, quello che alza le maree. Come alza le maree? Vuoi dire Alzheimer? Brava, proprio quello. Questo è il teatro. Luci, palco, quinte. Ma soprattutto voi. Le vostre risate e i vostri applausi. Grazie.